Volvo Trucks Volvo Trucks presenta i veicoli commerciali elettrici a guida autonoma in grado di rendere i trasporti del futuro più efficienti, sicuri e puliti. L'obiettivo a lungo termine è offrire alle aziende che necessitano di servizi di trasporto continui tra hub logistici una soluzione che completi le offerte già esistenti. La soluzione di trasporto del futuro di Volvo Trucks dovrà essere impiegata per svolgere attività regolari e ripetitive, caratterizzate da distanze relativamente brevi, ingenti volumi di merci e massima precisione nella consegna. L'esempio più tipico sono i trasporti tra hub logistici di produzione e i porti, ma i possibili usi sono molto più numerosi. Le operazioni sono effettuate da veicoli elettrici collegati a un servizio cloud e a un centro di controllo dei trasporti. dotate di sistemi avanzati per la guida autonoma. Sono inoltre progettati per stabilire la propria posizione corrente con una precisione al centimetro, monitorare nei dettagli e analizzare le attività degli altri utenti della strada e reagire con la massima accuratezza. Il centro di controllo verifica costantemente i progressi dei trasporti e la posizione esatta di ogni veicolo, lo stato di carica delle batterie, il contenuto del carico, i requisiti di assistenza e molti altri parametri. Come in un processo di produzione industriale, velocità e progressi vengono personalizzati in modo da evitare inutili attese e garantire maggiore puntualità nelle consegne. Questo consente di ridurre al minimo gli sprechi in termini di scorte di riserve e di aumentare la disponibilità. I veicoli che operano sugli stessi itinerari collaborano per creare un flusso ottimale.